Siamo arrivati alla quarta e ultima lezione relativa all'elettricità. Parleremo oggi di pile e accumulatori. Abbiamo detto che nel corso dell'anno noi studieremo tre tipi di generatori elettrici, la pila e l'accumulatore che sfruttano l'effetto chimico della corrente elettrica per creare una tensione, l'alternatore e la dinamo che sfruttano invece l'induzione elettromagnetica e il pannello fotovoltaico che sfrutta l'effetto fotoelettrico. Oggi ci occuperemo del primo tipo, cioè le pile e gli accumulatori. La pila è un generatore di corrente continua che utilizza reazioni chimiche per ottenere energia elettrica, quindi vedremo che sfrutterà delle reazioni chimiche per generare la tensione. È composta da due elementi, chiamati elettrodi, costituiti da due sostanze diverse, zinco e rame, che può essere sostituito col carbone, che sono immersi in una soluzione chimica acida, detta elettrolita. L'acido va a corrodere lo zinco, sottraendogli cariche positive che si vanno ad accumulare sul rame. Quindi lo zinco si carica negativamente, visto che ha perso cariche positive, e quindi diventa un polo negativo. Il rame, invece, visto che ha acquistato cariche positive, si carica positivamente e diventa polo positivo. Quindi, per quello che abbiamo studiato all'inizio del nostro percorso, possiamo dire che fra i due elettrodi si è stabilita una tensione elettrica, cioè una differenza di potenziale elettrico, perché di qua abbiamo più elettroni e di qua abbiamo più protoni, quindi c'è questa differenza di potenziale elettrico. Come abbiamo già visto quando abbiamo studiato la tensione, se io vado a collegare un corpo caricato positivamente e uno caricato negativamente, se li vado a collegare con un filo conduttore, in esso iniziano a muoversi gli elettroni che tentano di ristabilire l'equilibrio che si era perso. Inizia, cioè, a scorrere corrente elettrica. E se in questo filo elettrico io interpongo un utilizzatore, per esempio una lampadina, questa si accende. Abbiamo così creato un circuito elettrico elementare, partendo da materiali di tipo differente. Le trasformazioni chimiche che stanno permettendo che questo circuito funzioni, diciamo che durano fino a che lo zinco, che continua ad essere corroso dall'acido per portare di qua le cariche positive, fino a che lo zinco non si corrode del tutto. A quel punto le trasformazioni chimiche cessano e quindi non c'è più tensione e quindi anche il flusso degli elettroni si arresta e noi diciamo infatti che la pila è scarica. La tensione generata da una pila, quindi quella che abbiamo appena visto, è in genere compresa tra 1 e 2 volt. Se occorrono tensioni superiori, si ricorre a un insieme di pile uguali, che viene detta batteria, e vengono appunto collegate in serie. Le pile noi abbiamo visto che possono essere collegate sia in serie che in parallelo, l'abbiamo visto la volta scorsa. quando sono collegate in serie si ha un aumento di tensione, quindi per esempio nella pila che vedevamo nei disegni delle lezioni scorse, la pila è da 4,5 volt, se io la vado ad aprire, dentro ci trovo tre stilo da 1,5 volt che sono collegate, vedete, il meno con il più, il meno con il più, sono collegate in serie e quindi le loro tensioni si sommano 1,5 per 3 fa 4,5 e questa è una pila appunto da 4,5, ma la chiamo batteria perché è formata da un insieme di pile collegate in serie. La quantità totale di corrente che una pila è in grado di erogare nella sua vita si misura in amperora. Una pila con capacità di 1 amperora è quella che può erogare una corrente di 1 amper per una intera ora oppure 0,1 amper per 10 ore. Come vedete anche dentro la pila che utilizzeremo per il nostro circuito abbiamo una serie di pile collegate tra loro in serie in modo da arrivare alla tensione di 9 volt. Nelle pile di uso comune che vengono dette pile a secco l'elettrolita, l'acido non è liquido sarebbe scomodissimo avere una pila da portarsi dietro con quest'acido liquido ma è invece inglobato in una pasta così che non possa fuoriuscire. Esistono molti tipi di pile qua ne vediamo disegnate penso quasi tutte sia pile che batterie e vediamo che questa da 4 e mezzo che abbiamo già avuto modo di vedere si chiama pila piatta e batteria piatta poi abbiamo le torce che sono molto grandi le mezze torce quella che usiamo noi da 9 volt la pila transistor poi le varie stilo e mini stilo e infine le pile a bottone la pila che usiamo comunemente viene detta pila le clanchet o anche detta zinco carbone che praticamente a posto del rame vi ricordate i due elettro di zinco nel rame che abbiamo visto all'inizio e il rame viene sostituito dal carbone e è così composta l'elettrolita è in pasta e lo vediamo qui è immerso in un cilindro che è fatto di zinco mentre nel nucleo centrale abbiamo l'altro elettrodo che è fatto in carbone quindi invece di avere il liquido e poi i due elettrodi inseriti al suo interno abbiamo una tazza di zinco all'interno del quale c'è l'elettrolita in pasta e poi nella parte centrale c'è il carbone naturalmente questa funziona esattamente come quella con l'acido liquido che abbiamo visto prima solo che fortunatamente essendo in pasta non fuoriesce anche se qualche volta sicuramente tutti abbiamo visto delle batterie vecchie in cui fuoriesciva un po' di acido le pile alcaline sono del tutto simili alle zinco carbone però utilizzano un'elettrolita composto da un metallo alcalino questo fa sì che duri molto di più però questo ne aumenta anche il costo le pile all'ossido d'argento sono anche dette pile a bottone sono di dimensioni molto ridotte le conosciamo tutti servono per alimentare orologi calcolatrici e altri piccoli oggetti poi ci sono gli accumulatori o pile ricaricabili sono quelle del telefono oppure quelle che ricarichiamo per giocattoli telecomandi e quant'altro questi tipi di pila ricaricabile anche detti accumulatori hanno un funzionamento reversibile cioè quando sono collegata alla rete elettrica cioè quando le metto a ricaricare assorbono appunto l'energia elettrica e la accumulano trasformandola in energia chimica dopodiché una volta che vengono messe per essere utilizzate nei vari dispositivi invece trasformano l'energia chimica accumulata in energia elettrica ciò può essere ripetuto molte volte quindi si ricaricano attaccandola alla rete elettrica e forniscono corrente elettrica una volta staccate dalla rete elettrica e messe nei dispositivi esistono batterie particolari che sono quelle delle automobili che sono anche queste batterie ricaricabili o accumulatori hanno un elettrodo in piombo e l'altro in ossido di piombo quindi invece che zinco e rame che zinco e carbone è piombo e ossido di piombo e l'elettrolito invece è acido solforico diluito questa batteria è formata da sei pile sei pile da due volt che le vediamo in questi in questi piastre praticamente e le sei le sei pile e ognuna da due volt vanno a ottenere una tensione di 12 volt infatti nell'automobile tutti gli dispositivi che sono in automobile funzionano proprio con questo voltaggio tutto a 12 volt ora vedremo un video che ci mostrerà come sia possibile realizzare una pila utilizzando un limone che è lo stesso esperimento che facciamo in classe e con cui noi accenniamo un piccolo display questo video lo potrete vedere cliccando sul link che apparirà tra pochi istanti in sovraimpressione e con questo le nostre quattro lezioni sull'elettricità sono terminate proseguiremo poi con l'elettromagnetismo con l'elettricità